ma cloud ma che cos'era dai c'era solo breed che ti stava picconando sta scavando non scavare breed perché scavi cloud smettila breed ti scavo adesso siamo sulla nuova modalità di mining clicker si chiama cioè nel senso è tipo siamo scavamo su minecraft in poche parole no e dobbiamo guadagnare un sacco di soldi per fare ancora più soldi per sbloccare nuove zone vediamo io adesso già da adesso posso comprare il pet che mi è uscito un maiale comune però ho già messo il maiale giusto si io ho già messo il maiale infatti già guadagno di più e si ma scusa non si può prendere tipo l'autoclicker una sorta di autoclicker ovviamente illegale raga non fatelo però tipo non c'è una sorta di shop del genere lame non lo so credo di no dovresti farlo col computer tu installare l'applicazione non si fa non veramente da vergogna non lo facciamo non lo facciamo assolutamente chi chi lo fa cioè veramente io non lo faccio noi siamo miner professionali esatto professionali quindi praticamente sappiamo bene come si come si ma mai ma devi cliccare il pulsante sinistro del mouse esatto e comunque mi è uscito un cane comune dai che pizza sti pet comuni li odio però adesso ne guadagno ancora di più di soldi più facciamo meglio ma scusate ma ci sono nuove zone così praticamente qua si può andare avanti blocco di vetro ok perfetto allora perfetto vediamo chiaramente vedremo anche il blocco di vetro ma anche magari più avanti la zona vip che secondo me va comprata ma io voglia la prendiamo non lo so vediamo perché apri apri multi allora devi puoi aprire il premio giornaliero qui dove dove qui 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 o se i premi sono belli vediamo io mi immagino i miei vicini che mi sentono no 11 ore che pizza posso prenderlo solo tra 11 ore ma come si permette qua cos'è che ci aspetta che qua c'è qualcosa non è niente che aspetta questa roba posso ho venduto un pet cosa ho fatto ah forse l'ho evoluto va bene chi se ne prega posso prendere però un nuovo pet e vediamo questo pet ti prego dammi qualcosa di bello qualcosa di bello qualsiasi cosa o coniglio raro è il coniglio raro se grazie questo adesso guadagnerò un sacco di soldi amici mi calparla parla 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 mai esca cosa scavi allora scavando per arrivare a 10k scavando le belle l'uovo quello bello ok per meno male allora vediamo un attimo ma perché si scavando la guarda che non serve scavare la fontana cioè basta scavare in giro no 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 la fontana è più bella ah ok ho trovato la cucinella unico c'è scritto deve essere forte è fortissimo 81 aspetta dov'è la cucinella cosa stai dicendo ho la cucinella sono sempre più scurato di te anche in questo gioco qui ah il pet no ti sto odiando cloud smettila no non lo sopporto raga in ogni gioco di roblox è sculatissimo oh mio dio aspe ma questo cos'è acqua si prendono i picconi di betulla aspe lo compro questo come come si fanno ad equipaggiare i picconi e si va si va qua nella casa e si prende molto di più ok ma io l'ho comprato però è tipo un passato ho finito tutto questo bellissimo coso che bello adesso posso entrare qua dentro era questa era un è diverso però questo è da prima cioè scusa comunque adesso posso forse prendere esatto un nuovo pet vediamo se mi esce qualcosa ti prego fammi uscire qualcosa anche io anche io anche io voglio una cosa di buono un pet unico va bene grazie un pet unico anche io cammello ma scusa ma è 270 wow cinghiale io invece vabbè diciamo che mi accontento un altro cammello comunque vorrei vorrei prendere l'autoclicker no non si fa non si fa ne ho tre da 270 chi se ne frega scusa è veramente io non non sei protagonista di niente nessuno ti caga e nessuno ti vuole bene non sto scherzando dai che cosa triste ti voglio bene non è vero dai siamo amici migliori amici e tutti quanti siamo tutti felici per più o meno ma non sempre ma con con i diamanti si possono fare gli upgrade in diamanti e quindi come come devi andare qui in questa zona qui dove c'è il c'è praticamente una specie di macchinario con delle tutto verde con le freccette verdi upgrade a cosa esattamente varie robe pagamento del minerale con i medico cosi wow che grazie stoccaggio animali velocità del giocatore che dice di scatto automatico se veloce di scatto automatico animali equipaggiati questo è una cosa del po vabbè velocità del giocatore aumentiamo amici mi è uscito lo scorpione epico mio dio che fegata tutto ciò è meraviglioso non so che parole trovare perché è bellissimo questo come si chiama scorpione si è uno scorpione non me lo ricordavo scusatemi sono veramente sciocchino a volte ah giusto lui è claudissimo purtroppo ha avuto un inconveniente ma adesso rientra non preoccupatevi intanto dobbiamo toccaggio animali no intanto io dovrei pagare qua perché devo fare un sacco di soldi chiaramente più faccio meglio è vediamo un attimo cosa serve per poter sbloccare questo coso no secondo me se ho bisogno di un altro pickaxe praticamente secondo me devo prendere il massimo del pickaxe comunque adesso con i pet nuovi sicuramente ci arriviamo molto presto ai vari pickaxe questo qua costa 260 mila infatti sono a 108 mila ah però voi non vedete i soldi a questo è un problema questo è un vero problema amici scusatemi tanto non vedevate i soldi purtroppo e sono un po stupido ma perché adesso li vedete dai ma che mamma mia perché sono stupido non so fare lo youtuber perché non so fare lo youtuber dai era è così ovvio che devi devi togliere le cose che stupido non mi fa di prime comunque invece adesso sono felice perché posso comprare il nuovo piccone fra poco in realtà adesso posso comprare il nuovo piccone di spugna il piccone di spongebob molto bello più o meno adesso però sentite se clicco velocemente guardate quanti soldi faccio mi sono stancato basta non clicco più così velocemente è veramente difficile vi giuro e non è facile comunque secondo me secondo me questa cosa potrebbe diventare un meme scrivete a nei commenti secondo me adesso tutta italia tipo mi prenderà per il sedere perché sembro tipo una sorta di schizzato che urla va bene scusatemi è nel caso scusatemi tanto questa cosa ho paura ma piccola domanda a chi non c'è perché effettivamente non c'è nessuno ma se io faccio questo coso adesso ma mi fa ritornare dall'inizio perché se no io non lo faccio se mancherebbe altro io lo faccio e finalmente dopo tutto questo caldo c'è la possibilità di andare nel freddo effettivamente oh che bello sentite il bel fresco sulla vostra pelle quel fresco che vi rinfresca che secondo me l'estate tutti lo vogliamo cioè non mentiamoci tutti vogliamo il fresco vediamo il pet qua è raro il tricheco raro il tricheco perché ovviamente qua fa super freddo sentite proprio il freddo sulla pelle cioè proprio lo potete assaporare questo tutto questo freddo sulla pelle che vi e che che vi vi fa sentire meglio d'estate che fa dire oh che bello finalmente un po di aria fredda ecco questa cosa qua c'è qui sono contento che ci sia allora questo è il piccone ingranaggio cioè senza offesa per il piccone ingranaggio ma mi sembra un po stupido però io spero che non si senta troppo il mouse ora che ci penso non lo so mi fa paura sapete cosa io vorrei riordinare cioè rischiacciare qua ma ho paura che poi mi esca un pet comune ho proprio questa gran paura no cioè c'è nel senso c'è il venti di possibilità non lo so io spero che mi ha scassi il percento di possibilità ma non vorrei prendere prima il piccone ingranaggio perché sapete come è molto figo il piccone ingranaggio ecco qua adesso lo posso prendere direttamente aspettiamo chiaramente il nostro amico cloud allora cloud io sono andato tipo super avanti ti ho superato tantissimo nel mentre che tu eri non stai facendo una abbiata c'è pari niente dove sei finito a seccoti qua ciao ehi guardami 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 olle posso andare avanti aha stupidino e vabbè dai però ti potrai rifare se magari volete un'altra modalità di questo tipo ragazzi io ve lo porto assolutamente basta che lo scrivete nei commenti ricordatevi di scrivere nei commenti e cosa devono scrivere dimmi un attimo cloud cosa vuoi che scriva devono scrivere che modalità gli piacerebbe che facciamo no tipo dimmi tipo un emoji che emoji ti piace ok hashtag cloud più fortunato di buonissimo guarda se mi mettete questa cosa ragazzi guarda prendo il death note chi lo scrive oh va bene dai scrivete qualche volete ciao ciao